La zona gialla da lunedì è quasi scontata per l'Abruzzo. La decisione dovrà essere assunta domani dalla cabina di regia ministeriale, ma i numeri sono favorevoli già da diverse settimane. L'indice RT medio infatti continua a scendere, attestandosi allo 0,84. Netto calo anche del numero dei pazienti ospedalizzati. In terapia intensiva i ricoverati sono attualmente 46, 4 in meno rispetto a ieri. Qui il tasso di occupazione è al 26%, 4 punti percentuali sotto la soglia di allarme. In area medica i pazienti sono invece 466, 8 in meno rispetto a ieri, dove è occupato il 32% dei posti a fronte del valore limite della 40%. In alcune zone però l'incidenza del virus desta ancora preoccupazione. Sono 28 i comuni attualmente in zona rossa, 8 nel Terramano e 20 nell'Aquilano, ma domani si riunisce anche l'unità di crisi regionale e la mappa dei PUA potrebbe essere ridisegnata. L'incidenza settimanale a livello regionale è però ai minimi dall'inizio dell'anno e questo dato è il migliore in Italia se si considera la sola provincia di Pescara. Da un lato c'è quindi ottimismo avvicinandosi alle riaperture del 26 aprile, dall'altro prosegue la conta dei morti. Gli otto decessi registrati oggi portano il bilancio delle vittime a 2.355. Oggi intanto sono 233 i nuovi casi di Covid in Abruzzo, il 3,2% dei tamponi analizzati tra antigenici e molecolari. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 90. Considerando anche i 319 guariti, attualmente in Abruzzo vi sono 9.420 positivi accertati, 94 in meno rispetto a ieri.